Marco Cipolletti, schiacciatore della Grefo Valle Perugia, una partita che era iniziata bene, vincendo il primo set anche in maniera abbastanza agevole contro la Monini Spoleto e poi? Beh, poi loro sono saliti di livello, noi purtroppo non ci siamo espressi come... C'eravamo allenati in settimana, purtroppo andiamo da quattro settimane che non giochiamo, un po' il ritmo partita ci è mancato e si è visto un po' quando è calata la tensione, quando c'era da andare giù col costello. Era una partita molto importante per i fini della classifica, c'era in palio la terza posizione, adesso siete costretti ad inseguire il terzetto di testa, ma secondo te quanto vale veramente la Grefo Valle? Beh guarda, anche l'andata ci siamo partiti con due sconfitte, adesso noi forse un po' di pepe lì ci fa solo bene, anche con la composizione della squadra molto giovane, quindi ci voleva un po' perché forse c'eravamo e abbiamo montato un po' la testa, quindi ci vuole un po' questa doccia di umiltà e spero che dalla prossima c'è un altro test difficile con il Fuligno, quindi vediamo. Era una partita come dicevamo con un coefficiente di difficoltà molto alto, però forse gli errori che avete commesso sono stati un po' troppi. Beh guarda, io farei più dei tuoi complimenti allo Spoleto perché ha fatto una partita veramente sopra le righe, lo Spoleto è una bella squadra, quindi più che dei meriti nostri io farei più un applauso a loro. Grazie.